Ed il nostro inviato Fabio Pasini ha raccolto anche le considerazioni del capogruppo meneghino della Lega Nord, Alessandro Morelli. Alessandro Morelli, rompiamo il patto, un'iniziativa forte che già dal nome fa capire le intenzioni, ma concretamente i sindaci cosa possono fare in una situazione così? Ma i sindaci possono fare ben poco purtroppo, bisogna innanzitutto far capire alla gente qual è la difficoltà dei sindaci, molte persone, molti cittadini si lamentano giustamente del fatto che magari le bucche nelle strade non vengono messe a posto, manca l'asilo, manca qualche servizio pubblico. Non è colpa dei bravi sindaci, dei tanti bravi sindaci del nord, è colpa di molti altri. Il problema per primo è chi al sud del paese spende troppi soldi, chiaramente, ma anche dell'Europa e di Roma che decide attraverso il patto di stupidità di colpire i sindaci virtuosi e la cittadinanza quindi è impedita nell'ottenere delle soluzioni ai suoi problemi. La Lega ha promosso una grande mobilitazione in questi giorni in tanti comuni lombardi. Certo è che la questione non riguarda solo la Lega, i sindaci della Lega, tanto che sono arrivate delle adesioni anche da parte dei primi cittadini di altri partiti. Benvengano le adesioni, anzi lo scopo è proprio quello di allargare il più possibile, a prescindere dal colore politico, ai bravi sindaci che stanno governando le nostre città. Io da milanese ho un ramarico, cioè il fatto che Pisapia non batte un colpo, è sempre lontano, distante. Noi anzi gli chiediamo, glielo lanciamo qui da Telepadania, gli chiediamo di battere un colpo, di dire sì a Rompiamo il Patto. Tutte le informazioni i telespettatori li potranno trovare su rompiamolpatto.org ma per quanto riguarda il mio sindaco Giuliano Pisapia l'invito va a lui. La Lega nelle prossime settimane organizzerà dei gazebo per informare la cittadinanza. Casualmente sono le stesse settimane nelle quali si approva il bilancio del Comune di Milano, un bilancio in sofferenza perché da un lato c'è Roma che ha 12 miliardi di debiti e il Comune di Milano cerca invece con grandi sacrifici, vendendo anche i gioielli di famiglia, di mantenere il pareggio di bilancio. Siamo all'assurdo, forse Pisapia dovrebbe battere un colpo non solo verso di noi e verso i suoi concittadini ma anche con i partiti che lo sostengono, il PD in primis.